In questa settimana la lezione si chiama Le risorse naturali e il commercio. Sabev, il darset fa' un anno harde ismu al-mawere del tabaiya wa tigora. Ricordate le lezioni precedenti, allora dovete fare queste domande. Prima di cominciare a studiare questa lezione dovete imparare a memoria il significato in arabo. Ricordatevi sollev la un coracle di aperçu poi rifled circa qualche lingua che si chiama le Keysi nel Roche sono altoiki da un paese. Per điều hallazzo dados olivo lezioni suasabino di connessi. Per questo succede a la coste del lancato di Belickesi nel Odette che sta lavorando. e che si ricordate in Inglaterra è una ricerca molto importante per l'industria Il Carpone quando si pensavo che abbiamo parlato di aggiungere una ricerca che ha trovato in Inglaterra e questa è una ricerca natural che ha trovato in Inglaterra che è il Carpone o il fachm. Ecco alcuni esempi di risorse naturali. Wodol bazen min il mwared di attabajali li piuqamagooda kuolle ballad. Ad esempio, soli aria, il shams o l'hoa, ruci minirali, il sufor, o l'maiden, piante, aqua, suolo, animali. Il risorse naturali sono importanti per un paese per crescer per la vita del suo popolo. Tabbag'an, il mwared di attabajali a il gazz. Il gazz è importante per cuccianiare per riscaldare. Il gazz o il gazz è importante per un po' il plato e per un po' il all'acroute. Il gazz è importante per fari, cioè per un po' brillare il caldo. è molto importante per poter fare le immobiliere e imparare le immobiliere il metallo per fari moltissimi prodotti oggetti per l'industriere il maiden è molto importante per poter fare le immobiliere le immobiliere anche le personico e l'intelligenza e la tecnologia sonore sersi è poter anche dire che le persone e le tecnologie è poter fare le immobiliere le immobiliere come le immobiliere le immobiliere le immobiliere le immobiliere le immobiliere le immobiliere la tecnologia di disca la tecnologia l'almanya la software americana e la software americana è poter fare le immobiliere che si sono un'attività il tigaro si non è un paese non alcuni risorsei ad esempio il gas allora comprare questi risorsei questi risorsei se non è un problema se hanno un problema se non è un problema per esempio l'Italia non ha molto gas quindi lo compra dalla Russia o dall'Egitto per esempio Italia non ha un problema se non ha un problema l'Italia non ha un pannone quindi lo compra dall'Egitto un altro esempio Italia non ha un mousse ma un mousse sono un mousse fatti scegliere in mien in Mocer legittimo non ha molto frumento quindi lo compro dall'Astralia o dall'Canada come in Mocer non ha un mousse ma un mousse ma un mousse fatti scegliere in Australia o dall'Canada legittimo non sa fare bene macchinari quindi lo compro dall'Italia o dall'Germania come in Mocer ma un mousse sono un mousse fatti scegliere come in Italia o dall'Germania quando i paesi di tutto il mondo comprono e vendono i loro prodotti abbiamo il commercio global dei prodotti عندما t'acquam il dwall balssero o albiya bainahuma lma tifdaq dwallah uttani e tishteri ma un bada asmo il tigora alamia allora il commercio significa l'operazione di vendere e comprare dei prodotti da un paesi compra un prodotto da un altro paese apriamo l'importazione il paese importa i suoi prodotti all'altro paese quindi anche definire l'commercio come l'operazione di Spotazione e importazioni e prodotti trai paesi. Per questo possiamo capire che la scuola ha fatto un atteggiamento e un atteggiamento e un atteggiamento e un atteggiamento tra le montagne. La scuola è un atteggiamento per la scuola.